Si è svolta l'operazione ad alto impatto della Polizia di Stato, denominata Estate Sicura e mirata alla prevenzione dell'illegalità diffusa nel territorio della provincia di Salerno. Sono intervenute le sezioni volanti della questura di Salerno e degli uffici controllo del territorio, dei commissariati di distaccati di Battipaglia, Cavali Tirreni, Nocere Inferiore e Sarno, anche con l'impiego delle battuglie di rinforzo dei reparti prevenzioni crimine Campania e Basilicata, nonché da parte degli equipaggi appartenenti alle specialità della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera e della Polizia Ferroviaria. È stata coinvolta in detta operazione anche la Polizia Locale, nell'ambito delle proprie attribuzioni per il controllo e la sicurezza della circolazione stradale. In totale 281 operatori della Polizia di Stato. Sono stati controllati 3.684 veicoli, di cui 3.276 tramite sistema automatizzato a distanza delle targhe. Invece 1.936 persone sottoposte a controllo, di cui 343 stranieri, ed identificati 248 persone con a carico precedenti di Polizia, elevati 106 verbali relativi a violazioni dal codice della strada, di cui 14 hanno comportato l'attenzione accessoria del sequestro del veicolo per mancata copertura assicurativa.